Venerdì prossimo a Vezzano un appuntamento con la Fisarmonica, un appuntamento molto particolare. Sì, venerdì 22 suonerò fare un concerto di Fisarmonica Solista ricordando Sergio Cozzani che ci siamo conosciuti un po' di anni fa, da lì è nata una collaborazione di questo festival che si è tenuto ogni anno, che si intitolava appunto Fisarmoniche sotto la torre. Si sono svolte ben 13 edizioni e quindi questa iniziativa tramite il nostro amico Carlo Casabianca e Davide Cozzani, il figlio di Sergio e la sua famiglia, nasce appunto questo concerto Memorial appunto dedicato a Sergio Cozzani dove io eseguirò musiche varie dalla musica classica, Vivaldi, Paganini, Rossini fino ad arrivare alla musica da film e al tango argentino. Quindi per gli appassionati di Fisarmonica e anche per i non, dalla chiesa di Vezzano, Ligure e Inferiore suonerò venerdì 22 sera. Ecco, quanto è diffusa la Fisarmonica tra i giovani? Allora, è uno strumento ancora poco conosciuto perché soprattutto la si abbina ancora adesso alla musica popolare è uno strumento con delle grandi potenzialità che si presta dalla musica classica anche alla musica moderna ecco, i giovani si stanno avvicinando per l'appunto perché questa sonorità la si ascolta addirittura anche nelle sale moderne e quindi è uno strumento che nonostante giovane perché nasce nella fine dell'Ottocento si sta avvicinando sempre di più. Io naturalmente il programma che svolgerò sicuramente dalla musica classica ma passerò anche alla musica da film con dei miei arrangiamenti anche particolari dove sfrutterò appunto le potenzialità dello strumento fino ad arrivare al tango argentino che va molto di moda.